Dove sarò mai? Carne fresca da macinare! Non dargli ascolto, è carino, ma è... Ci sarà un modo per uscire! Non si scappa, l'unica speranza è il dolce sollievo della morte! Oh, per favore, risparmiami! O mio esercito, Koopa, Goomba, chiunque siano queste cose! Distruggeremo il Regno dei Funghi! Bowser sta arrivando! Non ho paura, farei di tutto per mio fratello! Vedrai che lo salveremo? Sì! Fugo! Te la sei cercata! Ma che spazzo! Siete pronti? Via! All'attacco! Finiamola qui! Ha ha! Non ho paura! Non ho paura! Non ho paura! Grazie a tutti